Oggi compie 45 anni, un'altra stella intramontabile del nuoto mondiale. Peter van den Hogenband è un ex nuotatore olandese e vincitore di ben 7 medaglie olimpiche. Peter è stato il primo uomo ad abbattere il muro dei 48 secondi nei 100 stile libero, facendo registrare alle Olimpiadi di Sydney 2000 il tempo di 47-84, nuovo record del mondo rimasto imbattuto per ben 8 anni. Sempre alle Olimpiadi di Sydney 2000, Peter battè il campione australiano Jan Torp nei 200 stile libero, registrando prima in semifinale il nuovo record del mondo. Ti svelo due chicchie. Nel dicembre 2008 gli è stato intitolato il Peter van den Hogenband Swamstadion, un complesso sportivo dedicato agli sport acquatici situato ad Eindhoven, in Olanda. Nel 2013 è diventato membro della International Swimming Hall of Fame. Buon compleanno, Peter!